Se c'è un momento in cui sembra che le nostre sorti non siano più nelle nostre mani, ma tra le grinfie di pochi individui che decidono da lontano, quel momento è questo. Si tratta di persone talmente potenti da potersi infiltrare in ogni ambito della vita economica e politica mondiale e da influenzare ogni decisione che ci riguardi. Adam Kadmo, per la prima volta in un libro, delinea mappe e strategie, identità e moventi di questa potentissima cultura segreta. Anche chi ignora tutto degli Illuminati sappia che gli Illuminati sanno molte cose di lui. Un abbraccio, Adam.